Ciao a tutte ragazze allora questo è un video che mi è stato richiesto già da un bel po' di persone nel giro di questi anni perchè mi hanno consigliato di fare almeno qualche video di ASMR io sinceramente mi sono documentata da poco sull'ASMR perchè ho iniziato comunque a guardare qualche video di alcuni youtuber che fanno solo video di ASMR e mi è piaciuto comunque molto questo mi sono piaciute molto queste tipologie di video mi sentite parlare a bassa voce perchè è così comunque che inizia l'ASMR con questo tono di voce abbastanza basso per far si che comunque voi riusciate a rilassarvi il il più presto possibile allora ma a dire la verità sono abbastanza come posso dire sono un po' inesperta esperta nei video di ASMR quindi siccome il mio canale comunque riguarda il trucco ho deciso di parlarvi un po' di alcuni dei prodotti che io utilizzo ogni giorno facendovi un po' sentire anche con un po' di tapping si chiama così tapping appunto la consistenza di questi di questi oggetti e comunque di questi cosmetici che io utilizzo solitamente anzitutto volevo chiedervi anche e per le persone che comunque seguono l'SMR spesso nel senso ogni giorno che fanno video o che comunque l'ascoltano volevo chiedervi magari un po' di consigli e se vi piacerebbe comunque che facessi video di ASMR magari non lo so una volta al mese oppure se vi piacciono oppure se non vi piacciono per chi comunque volesse sapere cos'è l'SMR io ho cercato dei video di una ragazza che fa ha un canale di ASMR e vi mando il link qua sui box per le informazioni sul video che secondo me è stato più esauriente che mi ha risolto alcuni dubbi che avevo sull'SMR allora iniziamo subito vi faccio vedere alcuni dei trucchi che ho e il primo che vi faccio vedere è questo ho questa bellissima confezione e fa forma di cuore e perdone a me piacciono molto i cosmetici in cartone sinceramente perché sono abbastanza leggeri e secondo me sono i più comodi che ci sono questo è un blush super super illuminante è veramente bello come colori io li mischio sempre tutti insieme è veramente bellissimo questo colore mi piace molto e lo trovate anche sul viso perché oggi l'ho messo comunque questo blush poi io utilizzo questo pennellino per me ti piace tra l'altro se notate si vedono si vede ancora la polvere che c'è dentro è morbido è morbidissimo questo pennellino sulla pelle poi è una sensazione veramente piacevole come dire relax non ricordo dove l'ho presa però si è molto bello come pennello questo mi piace poi un'altra cosa che vi faccio vedere è questo illuminante anche questo ve lo vedete la pezzo in questa zona sulla zona del naso qua sotto prima delle labbra questo è un bel illuminante e ce l'è il colore è il classico dell'illuminante un po' sul doratino e anche questo è molto bello e soprattutto molto pigmentato l'altro prodotto che ho utilizzato con questo trucco sui toni del rosa è questo mascara della NYX si chiama Doll Eye mascara e ha lo scufolino piccolo eccolo qui è piccolino però allunga veramente tanto le ciglia infatti lo utilizzo spesso per trucco da tutti i giorni per applicare il fondotinta o il corretore utilizzo questa qui che è la beauty blender piccolina io ho ordinata da un sito e mi ci trovo veramente bene è morbida 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 mi sembra un antistress carino molto carino come struccante alla fine della giornata utilizzo questo di questa marca botanica naturale è uno struccante bifasico io mi trovo molto bene con gli struccanti bifasici bisogna agitarlo agitarlo bene prima dell'uso è una volta che è mixato tutto prendete un cotofio o un dischetto per rimuovere il tocco e lo mettete su tutto il viso questo è molto buono mi trovo molto bene e poi è anche naturale è biologico un'altra cosa carina che mi è arrivata da AliExpress chi mi segue sul canale e lo so che compro molto su AliExpress e questo pennellino qua è troppo carino è un pennellino che io utilizzo per mettere l'illuminante lo metto qua sotto perché ha queste spatoline molto molto sottili sono 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 Spero che vi piaccia anche questo, se vi piace vi mando il link qua sul box di informazioni, costa pochissimo, costa praticamente 1 euro, ed è carino, molto carino, tutto colorato. Un'altra cosa che ho comprato è questo simpatico squishy a forma di sushi, io adoro il sushi, mi piace tanto, ha soprattutto il salmone per quello che ho comprato, e ha questa bellissima consistenza. Si può stringere e poi a poco a poco torna dalla forma originale, è veramente carino questo, mi è piaciuto molto. Spero che il video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, e soprattutto se vi piace questo tipo di video, se magari ho sbagliato qualcosa nel mostrarvi, non so. Fatemi sapere comunque se il video è stato di vostro gusto o meno. Ripeto, per chi non sapesse comunque che cos'è l'SML, vi lascio qua sotto il link, se è box di informazioni. Per qualsiasi richiesta di video di qualsiasi tipo, scrivetemi un commento qua sotto. Spero che il video comunque sia abbastanza, cioè io ho voluto fare questo video principalmente, perché un po' di ragazze che mi seguono anche sul canale me l'hanno consigliato. Mi hanno detto che comunque secondo loro avevo una voce abbastanza rilassante, quindi fatemi sapere se è così, so, se vi può interessare questa tipologia di video. Vi mando un bacione grande, al prossimo video.